NEL VIDEO PRECEDENTE NEL VIDEO PRECEDENTE Ben tornati con Su Deadpool ovviamente Questo video Sta durando abbastanza Infatti ho dovuto Perché la Dovrò spezzettarlo parecchio Trovo il pet per game Un attimo Dio Cristo Ebbene si ragazzi Non è ancora finito il gioco Non è ancora finita la Quarta missione Sono tipo Quarta missione Ottava parte Vabbè Yo Somers Pensavo che tu hai detto Questa è la forma di andare Dove è lì Dove è lì Stai sicuro che questo plan Sì Cable può costruire Qualcuno Se solo Prendiamo le parti Possiamo costruire Roboti sex? Mi ricordi di chiedere Ah ragazzi Mi sono comprato una nuova Questa Ora beh la faccio Ora beh la faccio io Cosa è lì Ti ho comprato un'amore Ti ho comprato un po' di una nuova Ma è una nuova Sui Tu ve il E' una nuova ercita Questa è la nuova Ahà! Quella cartella di Sentinela che abbiamo bisogno! Sì, vabbiamo. Quali sono le mani? Sentineli! Lontano la città e la città. Un ucciso milioni. Un ucciso milioni. Ok, troviamo una cosa per mettere in questa cosa! Un ucciso milioni! No, non! Un ucciso milioni! Allora Allora non dobbiamo farlo Sì, stop! Sì, stop! Ovviamente ma non è un po' più questo poi tocca un mossa perché lag... oh, prima non lagavano in realtà ma in franzi chi è? Sì 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 Ok Sì 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 Σì Sì 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 Mc un po' da cattino Cable questo? questo? Cable! Ho trovato la prima parte! Woohoo! Excelente! Sei un passo più vicino a tua demigra. C'è un altro parte che ho bisogno prima che possiamo iniziare. Oh, sei di un piccolo figlio! Tu dovresti essere capito a trovare l'interno di qui. Aggi andiamo! Un piccolo figlio! Due parti? In realtà? Hei! Rome non è costruita in una giornata! Ehi! Ehi! Ora è l'ora! L'ora è l'ora! L'ora è l'ora! Bla bla bla! Che è? Che è? Che è? Che vado è l'ora? Che vado è l'ora! Che vado è l'ora! Nel bel padre è l'ora! Chia! Il tipo che ha il coso, porco stupito questo è proprio il mio prova questo, prova questo oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh 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 per forza oh pensavo fosse tipo oh 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 nooo, non taglio il video! ho guardato il video a finale e quanta come si no, finito per tagliarlo un po' fanno guardami questi, torna su, ammazzalo scusate, scusate ma adesso in realtà non mi fai un cazzo di danni ehi, è il nostro preferito come faccio serio ma da qua lascia prima oh 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 ehh ehh ma io non c'è quel cazzo ma questo è così che c***o si vabbè però eh guarda un po' io non c'è chissà te c***o oh no hai quello Ma hai finito da cazzo che c'è? Cazzo si! Scusa, ha fatto solo questa? Ah, ok. Magari dovremmo rifare di nuovo? No, no! Fantastico! Grazie, grazie! ok 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 fantastico ok 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 carri scuro strato file lba slug sì ma 2 si non ci credo dai voglio fare altre cose io non ho tutto questo tempo cioè ah non mi dico non ho fatto il doppio salto ma che puttana non c'è lontano coglione eh ma basta ma uff 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 i r e poi toccaniamo di là vai qui ah ah si vaffan ora fai i salti come tu i 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 ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta forse ce l'abbiamo fatta quindi ci vediamo nel prossimo video lasciate un commento spero vi sia piaciuto questo vari video e quindi se non l'avete ancora fatto scriveteli lasciate un bellissimo like e se avete voglia scrivetemi nei commenti quali serie posso fare o magari quali sfide posso fare su minecraft survival non survival parkage parkour cose così ok quindi spero vi sia piaciuto il video ci vediamo alla prossima bye bye